siete liberissimi di non credermi ma io oggi veramente questo video avrei tranquillamente evitato di farlo questo video veramente non lo volevo fare ma sono costretto a farlo per correttezza nei confronti di chi mi segue e la premessa è la seguente avrei fatto lo stesso e identico contenuto anche a parti invertite anche se la polemica l'avesse lanciata l'inter l'avesse lanciata marotta l'avesse lanciata in zaghi avrei fatto lo stesso e identico contenuto qui dobbiamo analizzare la situazione e lo faccio per principio ragazzi è questa la cosa che voglio trasmettere alle persone che mi seguono quindi non prendete questo discorso come un discorso di parte di parte verso una parte e di contro contro l'altra mi raccomando bentornati e ben ritrovati questo è il motivo per cui vi chiedo di supportare anche questo canale youtube dove in tantissimi seguite i miei video ma ancora non siete iscritti e sappiate che tanti tanti contenuti ve li perdete proprio per questo motivo se vi fa piacere innanzitutto supportate questo video lasciando mi piace iscrivetevi e attivate la relativa campanella così non vi perdete più niente quando pubblico qualcosa grazie a chi l'ha già fatto ma grazie a chi lo farà visto che è un canale di calcio parallelo al primo tra virgolette canale di calcio youtube gabomen tra l'altro ho un canale extra calcio per chi non lo sapesse gabomen extra dove da poco è uscita insieme al buon fabio la mia prediction sul sull'imminente campionato di formula 1 quindi se siete interessati anche alla formula 1 se magari non conoscete non seguite la formula 1 e volete dare una spulciata ve lascio tutti i canali in descrizione come sempre compariranno qui durante il video allora la premessa da fare la seguente quando si parla di no quando si parla quando vediamo partite della prima della classe quest'anno tocca all'inter l'anno scorso toccava al napoli anni fa toccava la juve poi è toccato al milan fateci caso si cerca sempre di andare a cercare il pelo nell'uovo lago nel pagliaio e qualsiasi qualsiasi episodio ragazzi si ingigantisce in una maniera di quelle pazzesche io sono anni che continuo a ripetere questa cosa ma mi rendo conto che la memoria dei tifosi delle persone è abbastanza corta compresa la mia io pure c'è una memoria ma vi assicuro che negli anni questa è una cosa che tengo sempre a mente che ci tengo a ribadire è sempre così la prima della classe è la squadra più chiacchierata quindi qualsiasi episodio dubbio semitale che accade è motivo da parte soprattutto delle altre tifoserie per scatenare ragazzi il putiferio quindi fatta questa premessa che è un dato oggettivo in realtà sì ci sono stati alcuni episodi alcuni dei quali li possiamo anche definire dubbi in realtà è ma quando si parla di dubbio il dubbio è un qualcosa che non riuscirai mai a toglierti né in un verso né in un altro non è una cosa così incontrovertibile così oggettiva come in questo caso ragazzi Gasperini ma soprattutto per Cassi vogliono far credere questa è la mia analisi e non lo dico contro i tifosi dell'Atalanta perché non c'ho assolutamente nulla contro nessuna tifoseria ragazzi ma bisogna essere oggettivi e ribadisco faccio questo tipo di contenuto perché voglio trasmettere un segnale importante io vi leggo quello che hanno detto e poi lo analizziamo lo analizziamo insieme partirei da Gasperini e poi andiamo alle parole di per Cassi preferisce non parlare dell'arbitraggio invece riporto l'articolo di Sky Sport Gasperini che in conferenza stampa chiarisce ascoltate attentamente di solito parlo di regolamento quando vinco magari avrebbe vinto lo stesso l'Inter e qua già te fermo leva il magari l'Inter avrebbe vinto a prescinde da qualsiasi episodio dubbio o semitale l'Inter sta partita l'ha vinta meritatamente e l'avrebbe vinta in ogni caso punto basta e stop per quanto mi riguarda è poi nel calcio ragazzi il mai dire mai è sempre d'obbligo il calcio ci ha insegnato che non è una scienza esatta e che veramente no bastano delle incertezze all'interno della partita che una squadra che ha completamente l'inerzia la perde totalmente solo consapevole anche di questo ma guardando poi alla fine tutto quello che è successo per me ragazzi alla fine l'Inter l'avrebbe vinta lo stesso quindi secondo me non era un argomento che bisognava sviluppare per quanto mi riguarda fossi stato io l'allenatore dell'Atalanta poi ognuno è liberissimo di dire di dire quello che vuole avrei fatto molto più mea colpa per quanto mi riguarda poi ribadisco è liberissimo di dire quello che vuole ma aggiunge questa è la provocazione di quelle clamorose ragazzi perché qua sembra veramente di di urlare allo scandalo al calciopoli e fino a che secondo me lo fanno i tifosi è un qualcosa che ci può anche stare no però dal lato del professionismo di fronte a delle situazioni non così oggettive secondo me so parole che mancano anche di rispetto no all'altra parte in questo caso all'inter non sono belle parole perché dice ma sarebbe stata una partita vera cioè come al mo non lo so se l'ho interpretato male io se sono malizioso no però come a dire che la partita è stata partita vera è stata non è stata è stata completamente falsata da quelli che sono gli episodi che sono successi sul campo io non sono assolutamente d'accordo ragazzi e adesso poi io vi vado a leggere anche le dichiarazioni di un ex arbitro e mo so già quello che state per dire però poi entrerò nei meriti anche di quell'analisi siamo dentro a tutte le competizioni dice la dice l'Atalanta dice Gasperini le partite diventano sempre più decisive a volte capitano anche queste serate bisogna essere pronti ad archiviarle e pensare alla prossima ecco queste sarebbero state le parole esatte con cui doveva sordì e chiude fossi stato io l'allenatore dell'Atalanta siamo lì a competere noi e il Bologna con Roma Lazio Napoli Fiorentina chissà forse anche il Torino l'Europa per alcune squadre è fondamentale per altre è il massimo dei traguardi poi l'analisi della gara l'analisi della gara nel secondo tempo non ho visto neppure così male la mia squadra io ho vista male lestamente proprio dico la verità non lo dico perché c'ho qualcosa contro l'Atalanta ma ho visto un'Atalanta già un po' in calo contro il Milan ma nelle 5-6 precedenti dove avevano vinto ho visto una squadra veramente incredibile per quanto mi riguarda una squadra veramente tosta una squadra ben messa in campo una squadra propositiva una squadra che ragazzi dimostrava manifesta superiorità e vinceva meritatamente le partite cosa che ieri sera non è successa abbiamo fatto tanti cambi e la gara è diventata un allenamento ovvio perché l'Inter ti ha messo le palle in testa ma non perché gli episodi e la marotta league hanno hanno fatto il loro corso per quanto mi riguarda voi siete liberissimi di pensare l'opposto e il contrario abbiamo fatto tanti cambi e la gara è diventata un allenamento scusate ho ripetuto anche in occasione del terzo gol dopo non penso sia più stata una partita di serie a ho avuto la sensazione che siamo pronti per giocare le prossime partite abbiamo fatto bene nel primo tempo contro un inter molto forte lo ammetti te lo ammetti te ma non solo nel primo tempo l'inter è stata fortissima in tutta la partita non è questo il tipo di prestazione che ci può intaccare moralmente e ve lo auguro nonostante la tifoso della roma spero voi possiate fare un passo falso ma noi dobbiamo ovviamente macinare punti però sono anche per la meritocrazia e ad oggi nonostante sa sconfitta perché l'inter fan campionato a parte secondo me l'atalanta e il bologna meritano più della roma di andare in campion se lo dicono anche i punti attuali di distacco visto anche quello che abbiamo fatto finché c'è stata partita la partita ragazzi è finita immediatamente è finita cioè poi l'arbitro ha fischiato l'inizio per quanto ribadisco me mi riguarda e lui parla anche di una partita molto anomala molto strana penseremo alla prossima non c'è tempo di pensare in negativo perché anomala è una sensazione che ho avuto io se lei non l'ha avuta pazienza infatti io non ce l'ho avuta magari l'ho avuta solo io chi lo sa anomala per il gol annullato no io di solito di regolamento parlo quando vinco questa è una ripetizione di quello che ho detto che ho detto poco fa senza episodi avversi forse avrebbe comunque vinto l'inter ma almeno sarebbe stata ribadisce una partita una partita vera però parla di partita molto anomala molto strana allora se mi parli di partita anomala perché non t'aspettavi un inter così forte e tu che non sei riuscito a stare all'altezza ok ma se tu mi parli di episodi dubbi e che la partita è anomala perché questi episodi in un mondo normale normale tra virgolette non sarebbero mai accaduti e sarebbero invece andati a favore dell'Atalanta perché era giusto così allora ragazzi io là veramente dico qua veramente viviamo in due mondi diversi in cui c'è chi vede una cosa e c'è chi vede un'altra poi la verità sta sempre nel mezzo no che c'è chi parla per la propria realtà per difendere la propria realtà e cerca di tirare acqua inutilmente al proprio mulino perché ribadisco fosse stata una partita in cui veramente si poteva parlare di un'Atalanta che è stata all'altezza dell'Inter dal primo al novantesimo di episodi veramente fortemente dubbi a senso unico no a favore dell'Inter che invece sarebbero dovuti essere completamente all'opposto ragazzi ma io tutto sto scandalo tutta sta situazione veramente non la vedo voglio leggere le parole di percassi perché sono quelle secondo me più forti in assoluto no che ragazzi però mi infastidiscono ve dico la verità mi infastidiscono perché veramente non comprendo il senso di dover rilasciare dichiarazioni di questo tipo difficile commentare una partita così di fronte avevamo una squadra grandissima a cui facciamo i complimenti ma se ammettete che è una squadra grandissima perché poi dovete sempre metterla non lo fa solo l'Atalanta tanto fanno tutte le realtà è inutile che ci prendiamo per i fondelli quando si perde ma c'è grande dispiacere per il risultato ci sono stati episodi determinanti che non abbiamo capito la D dell'Atalanta per Cassi commenta così la sconfitta della Dea a San Siro riconoscendo i meriti dell'Inter ma evidenziando quelli che a suo parere sono stati errori gravissimi da parte di arbitro e Vara parlo del primo gol annullato in modo incomprensibile spiega per Cassi come si può nonostante le immagini annullare un gol così non sono qui per aprire un dibattito ma per esprimere il nostro pensiero ed è giusto anche che uno esprima il proprio pensiero il gol di De Ketelar era valido al massimo ci doveva essere rigore per noi dice rigore per loro per il piede la gamba tesa di bastoni l'altro episodio scandaloso è il rigore dato all'Inter nessuno allo stadio ha capito cosa stesse succedendo sono passati 5-6 minuti per trovare qualcosa che nessuno aveva visto oltretutto con il guardaline che aveva alzato la bandierina siamo profondamente dispiaciuti era una partita potenzialmente bellissima che invece è stata pesantemente condizionata da episodi arbitrali in modo dilagante che ha deciso il risultato a favore dell'Inter il fallo di Miranciuk non c'era la VAR ha creato l'effetto di poter interpretare cose oggettive è semplicissimo non c'è tocco di braccio è bastoni che tocca la palla non interpretiamo immagini chiarissime dice dispiace queste partite complicatissime vengono condizionate da episodi che le spostano in maniera decisiva io ho preso la prima la primissima analisi sulla Moviola fatta da un arbitro da un ex arbitro di Serie A che ci mette la faccia e che capite bene che essendo stato un arbitro in passato deve essere super partes non deve favorire nessuna delle due dice quello che ha visto e ve lo analizza no? sentite che cosa dice Graziano Cesari l'assistente sui episodi l'assistente segnala che la palla è uscita in occasione della situazione ovviamente ok ma dalla revisione scusatemi si vede che il pallone non è uscito interamente giusto l'intervento del VAR come giusto assegnare il rigore all'Inter non è petto non è spalla non è ascella ma Atebur colpisce con il braccio sul cross di Dumfries Atebur colpisce con il braccio sul cross di Dumfries su questo episodio credo che siamo tutti d'accordo la palla non sembrava fosse uscita e il tocco di mano secondo me è abbastanza netto perché ecco forse non so se sono riuscito a replicare l'immagine ma la mano era così la prende di mano dentro l'area di rigore e caccio di rigore su questo credo che non ci sia assolutamente nulla da dire quindi Graziano Cesari commenta così il penalty concesso con il VAR ai nerazzurri e poi sbagliato da Lautaro Martinez che comunque poi ha portato al gol di Di Marco corretto poi non fa ripetere il rigore perché io anche su questo sono d'accordissimo al momento della battuta Di Marco non ha il piede destro appoggiato a terra e la sua proiezione in area non conta anche io su questo ragazzi sono d'accordo quindi il gol di Di Marco è stato secondo me anche correttamente convalidato un ex arbitro di Serie A e tutto rispetto ragazzi ha detto la sua e poi ascoltate attentamente che forse questo è l'episodio più dubbio l'episodio più controverso perché ci sono due situazioni ipotetiche ed eventuali da analizzare che te possono dire da una parte di una tifoseria da una parte di un'altra se poi difende la campana e l'altra campana mi metto nei panni da parte di un tifoso dice no perché da tifoso ovviamente no perché c'è sta Bastoni che sta col piede teso e quell'altro no però la presa dei bracci bene la valutazione anche in occasione del gol annullato all'Atalanta gol di De Ketelar sullo 0 a 0 semplicemente Cesari dice c'è il tocco di braccio di Miranchuk allora ragazzi io adesso no non vorrei essere ripeto su questo episodio qualcuno sicuramente ci stanno più dubbi no sulla prima parte analizzata secondo me non si può dire assolutamente nulla però dove sta tutto questo grandissimo scalpore e scandalo nel dire è un qualcosa di oggettivo talmente grave episodi talmente gravissimi talmente palesi che non è possibile che ci abbiano annullato un gol del genere io so d'accordo che se tu Atalanta passi in vantaggio contro l'Inter comunque significa passare in vantaggio puoi mettere in difficoltà una squadra che però ad oggi non sembra puoi mettere in difficoltà onestamente parlando secondo me in un modo o nell'altro l'Inter sarebbe uscita fuori e l'avrebbe vinta uguale l'avrebbe ribaltata ne avrebbero vinto 4 a 0 avrebbero fatto 2 a 1 o 3 a 1 secondo me l'avrebbero vinta poi la verità non la sapremo mai ma a parte perché l'Inter ad oggi ragazzi sembra viaggiare su una lunghezza d'onda completamente diversa però è successo non mi ricordo ma era all'inizio come puoi dire che quell'episodio ha completamente un episodio che rimane dubbio ragazzi rimane dubbio non è incontrovertibile poi sono d'accordo che se lo chiede a un tifoso dell'Atalanta dice Calciopoli se lo chiede a un tifoso dell'Inter te dice l'esatto opposto sono d'accordo perché conosco come sono fatte le tifoserie non se qua io ve lo dico in maniera ragazzi completamente distaccata dice no lo stai a dir perché preferivi che perdesse l'Atalanta no ragazzi ve l'avrei detto anche all'opposto se queste cose fossero accadute all'Inter e non all'Atalanta ragazzi non è una cosa per cui secondo me si può urlare ad uno scandalo di quelli di quelli clamorosi cioè è una situazione come tanti altri episodi dubbi che ci stanno ok no quelli dell'Inter quelli dove gioca l'Inter ragazzi vengono amplificati a mille poi succede no a due squadre che si stanno per salvare quel punticino nessuno dice niente ragazzi manca i giornali gliene frega niente parlanne perché magari so Salernitana e Empoli mostro di squadre a caso no quindi cerchiamo di dare il giusto peso agli episodi e alle situazioni e cerchiamo di ammettere anche ragazzi in una partita del genere che veramente attaccasse agli episodi secondo me è riduttivo cioè veramente riduttivo non ci trovo veramente il senso io avrei semplicemente fatto mea culpa per la prestazione dell'Inter che è stata veramente incredibile senza entrare troppo secondo me si arriva anche nel nel ridicolo in certe in certe situazioni ribadisco capisco il tirare acqua al proprio mulino ma secondo me c'è il limite a tutto voglio sapere la vostra qua sotto nei commenti io vi ringrazio per la visione di questo contenuto e ci vediamo come sempre alla prossima con un nuovo video grazie a tutti per la visione